I recenti fatti di Rosarno in Calabria che hanno contrapposto la popolazione locale e gli immigrati induce ad una riflessione. È indubbio che questi lavoratori siano particolarmente utili, soprattutto per alcune attività come quella del bracciante agricolo che trova poco riscontro tra i nostri lavoratori. Un commento su questa situazione e sul clima di tensione che si è creato arriva dal segretario generale Immigrati della CGL Abruzzo, Patrick Guabadia. Nel mio punto di vista intanto sono contento che c'è un fallimento totale di questo governo, un fallimento totale della legge Bossefini soprattutto. E poi sono contento che si vede veramente che il clima sta diventando così pesante con quello che dice questo governo, soprattutto la Lega. I migrati abbiamo visto che serve in questo paese, serve dalla dichiarazione fatta della popolazione di Rosario che hanno bisogno di manodopera di immigrati. Anche quello che è successo in Abruzzo recentemente, tanto è vero, il nostro ufficio sia immigrazione anche i FLAI, abbiamo denunciato in quanto alcuni lavoratori in quel settore, in quell'azienda, sono venuti a lamentarsi le cose che sta facendo. Non è una volta che questa azienda ha approfittato di dare manodopera di questi lavoratori immigrati. Quello che è successo in Abruzzo, soprattutto appena avete visto in televisione, avete letto sui giornali, ce ne sono tanti. Io sono contento che prima o poi si cominciano a scoprire le carte. Per quanto riguarda il problema della clandestinità? Il problema della clandestinità ce ne esiste, non soltanto in Italia, anche in America stessa, un paese in cui facciamo riferimento, esiste in tutta Europa. Nessuno può fermare il flusso immigratorio, siamo nati di spostarsi.